ai giudici che in milano nel condannarono a supplizi atrucissimi alcuni accusati d'aver propagato la peste con certi ritrovati sciocchi non men che orribili parve d'aver fatto una cosa talmente degna di memoria che nella sentenza medesima dopo aver decretata in aggiunta dei supplizi la demolizione della casa ad uno di quegli sventurati decretarono di più che in quello spazio si inalzasse una colonna la quale dovesse chiamarsi infame con un'iscrizione che tramandasse ai posteri la notizia dell'attentato e della pena e in ciò non si ingannarono quel giudizio fu veramente memorabile in una parte dello scritto antecedente l'autore aveva manifestato l'intenzione di pubblicarne la storia ed è questa che presenta il pubblico non senza vergogna sapendo che da altri è stata supposta opera di vasta materia se non altro e di mole corrispondente ma se il ridicolo del disinganno deve cadere addosso a lui gli si è permesso almeno di protestare che nell'errore non ha colpa e che se viene alla luce un topo lui non aveva detto che dovessero partorire ai monti aveva detto soltanto che come episodio una tale storia sarebbe riuscita troppo lunga e che quantunque il soggetto fosse già stato trattato da uno scrittore giustamente celebre gli pareva che potesse essere trattato di nuovo e con diverso intento e basterà un breve cenno su questa diversità per far conoscere la ragione del nuovo lavoro così si potesse dire anche l'utilità ma questa purtroppo dipende molto più dall'esecuzione che dall'intento Pietro Berri si propose come indica il titolo medesimo del suo opuscolo di ricavare da quel fatto un argomento contro la tortura facendo vedere come questa aveva potuto estorcere la confessione di un delitto fisicalmente e moralmente impossibile e l'argomento era stringente come nobile umano l'assunto ma dalla storia per quanto possa essere succinta di un avvenimento complicato di un gran male fatto senza ragione da uomini a uomini devono necessariamente potersi ricavare osservazioni più generali ed una utilità se non così immediata non meno reale anzi accontentarsi di quelle sole che potevano principalmente servire a quell'intento speciale sarà pericolo di formarsi una nozione del fatto non solo dimezzata ma falsa prendendo per cagioni di esso l'ignoranza dei tempi e la barbarie della giurisprudenza e riguardandolo quasi come un avvenimento fatale e necessario che sarebbe cavare un errore dannoso da dove si può avere un utile insegnamento l'ignoranza in fisica può produrre degli inconvenienti ma non dell'iniquità e una cattiva istituzione non si applica da sé certo non era un effetto necessario del credere all'efficacia delle unzioni pestifere il credere che guglielmo piazza e giangiacomo mora le avessero messe in opera come dell'essere la tortura in vigore non era effetto necessario che fosse fatta soffrire a tutti gli accusati né che tutti quelli a cui si faceva soffrire fossero sentenziati colpevoli verità che può parere sciocca per troppa evidenza ma non di rado le verità troppo evidenti e che dovrebbero essere sottintese sono invece dimenticate e dal non dimenticar questa dipende il giudicar rettamente quell'atroce giudizio noi abbiamo cercato di metterla in luce di far vedere che quei giudici condannaron degli innocenti che essi con la più ferma persuasione dell'efficacia dell'unzioni e con una legislazione che ammetteva la tortura potevano riconoscere innocenti e che anzi per trovarli colpevoli per respingere il vero che ricompariva ogni momento in mille forme e da mille parti con caratteri chiari allora come ora come sempre dovettero fare continui sforzi d'ingegno e ricorrere a spedienti dei quali non potevano ignorarli in giustizia non vogliamo certamente e sarebbe un tristo assunto togliere all'ignoranza e alla tortura la parte loro in quell'orribile fatto ne furono la prima un'occasione deplorabile l'altra un mezzo crudele e attivo quantunque non l'unico certamente né il principale ma crediamo che importi il distinguerne le vere ed efficienti cagioni che furono atti iniqui prodotti da che se non da passioni perverse Dio solo ha potuto distinguere qual più qual meno tra queste abbia dominato nel cuore di quei giudici e soggiogate le loro volontà se la rabbia contro pericoli oscuri che impazzente di trovare un oggetto afferrava quello che le veniva messo davanti che aveva ricevuto una notizia desiderata e non voleva trovarla falsa che aveva detto finalmente e non voleva dire siamo da capo la rabbia resa spietata da una lunga paura è diventata odio e puntiglio contro gli sventurati che cercavano di sfuggirle di mano o il timore di mancare a un'aspettativa generale altrettanto sicura quanto avventata di parer meno abili se scoprivan degli innocenti di voltare contro di sé le grida della moltitudine col non ascoltarle il timore forse anche di gravi pubblici mali che ne potessero avvenire timore di menturpe apparenza ma ugualmente perverso e non men miserabile quando sottentra al timore veramente nobile veramente sapiente di commetter l'ingiustizia Dio solo ha potuto vedere se quei magistrati trovando i colpevoli d'un delitto che non c'era ma che si voleva furono più complici o ministri d'una moltitudine che accecata non dall'ignoranza ma dalla malignità e dal furore violava con quelle grida i precetti più positivi della legge divina di cui si vantava seguace ma la menzogna l'abuso del potere la violazione delle leggi e delle regole più note e ricevute la doppiar doppio peso e doppia misura sono cose che si possono riconoscere anche dagli uomini negli atti umani e riconosciute non si possono riferire ad altro che a passioni pervertitrici della volontà né per rispiegar gli atti materialmente iniqui di quel giudizio se ne potrebbe trovare di più naturali e di meno triste che quella rabbia e quel timore ora tali cagioni non furono purtroppo particolari a un'epoca ne fu soltanto per occasione d'errori in fisica e col mezzo della tortura che quelle passioni come tutte le altre abbiano fatto commettere ad uomini che erano tutt'altro che scellerati di professione azioni malvagie sia in numerosi avvenimenti pubblici sia nelle più oscure relazioni private se una sola tortura di meno scrive l'autor sull'odato si darà in grazia all'errore che pongo sotto gli occhi sarà ben impiegato il doloroso sentimento che provo e la speranza di ottenerlo mi ricompensa noi proponendo ai lettori pazienti di fissar di nuovo lo sguardo sopra orrori già conosciuti crediamo che non sarà senza un nuovo e non ignobile frutto se lo sdegno e il ribrezzo che non si può non provarne ogni volta si rivolgeranno anche e principalmente contro passioni che non si possono bandire come falsi sistemi né abolire come cattive istituzioni ma render meno potenti e meno funeste col riconoscerle nei loro effetti e detestarle e non temiamo ad aggiungere che potrà anche essere cosa in mezzo ai più dolorosi sentimenti consolante se in un complesso di fatti atroci dell'uomo contro l'uomo crediamo di vedere un effetto dei tempi e delle circostanze proviamo insieme con l'orrore e con la compassione medesima uno scoraggiamento una specie di disperazione si par di vedere la natura umana spinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio e come legata in un sogno perverso e affannoso da cui non ha mezzo di riscuotersi di cui non può nemmeno accorgersi si pare irrazonevole l'indegnazione che nasce in noi spontanea contro gli autori di quei fatti e che pur nello stesso tempo ci per nobile e santa rimane l'orrore e scompare la colpa e cercando un colpevole contro cui sdegnarsi a ragione il pensiero si trova con raccapriccio condotto a esitare tra due bestemmie che sono due deliri negare la provvidenza o accusarla ma quando nel guardar più attentamente a quei fatti ci si scopre un'ingiustizia che poteva essere veduta da quelli stessi che la commettevano un trasgredir le regole ammesse anche da loro delle azioni opposte ai lumi che non solo c'erano al loro tempo ma che essi medesimi in circostanze simili mostraron davvero è un sollievo il pensare e se non seppero quello che facevano fu per non volerlo sapere fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde a suo piacere e non è una scusa ma una colpa e che di tali fatti si può bensì essere forzatamente vittime ma non autori non ho però voluto dire che tra gli orrori di quel giudizio l'illustre scrittore suddetto non veda mai in nessun caso l'ingiustizia personale e volontaria dei giudici ho voluto dire soltanto che non si era proposto ad osservare quale e quante ho voluto dire soltanto che non si era proposto ad osservare quale e quanta parte cebbe e molto meno di dimostrare che ne fu la principale anzi a parlare precisamente la sola cagione e aggiungo ora che non l'avrebbe potuto fare senza nuocere al suo particolare intento i partigiani della tortura che le istituzioni più assurde ne hanno finché non sono morte del tutto e spesso anche dopo per la ragione stessa che sono potute vivere ci avrebbe trovato una giustificazione di quella vedete avrebbero detto la colpa è dell'abuso e non della cosa veramente sarebbe una singolare giustificazione di una cosa il far vedere che oltre all'essere assurda in ogni caso ha potuto in qualche caso speciale servir di strumento alle passioni per commettere fatti assurdissimi e atrocissimi ma le opinioni fisse le intendono così e d'altra parte quelli che come il verri volevano l'abolizione della tortura sarebbero stati malcontenti che si imbrogliasse la causa con distinzioni e che con dar la colpa ad altro si diminuisse l'orrore per quella così almeno avviendo ordinario che che vuol mettere in luce una verità contrastata trovi nei fautori come negli avversari un ostacolo ad esporla nella sua forma sincera è vero che gli resta quella gran massa d'uomini senza partiti senza preoccupazione senza passione che non hanno voglia di conoscerla in nessuna forma in quanto ai materiali di cui ci siamo serviti per compilar questa breve storia dobbiamo dire prima di tutto che le ricerche fatte da noi per scoprire il processo originale benché agevolate anzi aiutate dalla più gentile e attiva compiacenza non hanno giovato che a persuaderci sempre di più che sia assolutamente perduto d'una buona parte però è rimasta la copia ed ecco come di quei miseri accusati si trovò e purtroppo per colpa ad alcun di loro una persona di importanza don Giovanni Gaetano de Padilla figlio del comandante del castello di Milano cavaliere de Santiago e capitano di cavalleria il quale poteva restampare le sue difese e corredarle ad un estratto del processo che come areo costituito gli fu comunicato e certo quei giudici non s'accorsero allora che lasciavano fare da uno stampatore un monumento più autorevole e più durevole di quello che avevano commesso a un architetto di questo estratto c'è di più un'altra copia manoscritta in alcuni luoghi più scarsa in altri più abbondante la quale appartenne al conte Pietro Verri e fu del degnissimo suo figlio il signor conte Gabriele con liberale e paziente cortesia messa e lasciata a nostra disposizione è quella che servì all'illustre scrittore per lavorarlo puscolo citato ed è sparsa di postille che sono riflessioni rapide o sfoghi repentini di compassione dolorosa ed indegnazione santa porta per titolo Summarium Offensivi Contra Don Johannen Caetanum de Padilla ci si trovano per esteso molte cose delle quali nell'estratto stampato non c'è che un sunto ci sono notati in margine i numeri delle pagine del processo originale dalle quali sono levati diversi brani ed è pure sparsa di brevissime annotazioni latine tutte però del carattere stesso del testo Detenzio More Descripsio Domini Ioannis Adversatur Commissario in verissimile suggestio e simili che sono evidentemente appunti presi dall'avvocato del Padiglia per le difese da tutto ciò pare evidente che sia una copia letterale dell'estratto autentico che fu comunicato al difensore e che questo nel farlo stampare abbia omesso varie cose come meno importanti e altre si sia contentato d'accennarle ma come mai se ne trovano nello stampato alcune che mancano nel manoscritto probabilmente il difensore potesse fogliare di nuovo il processo originale e farsi una seconda scelta di ciò che gli paresse utile alla causa del suo cliente da questi due estratti abbiamo naturalmente ricavato il più ed essendo il primo altre volte rarissimo stato ristampato da poco tempo il lettore potrà se gli piace riconoscere col confronto di quello i luoghi che abbiamo presi nella copia manoscritta anche le difese suddette ci hanno somministrato diversi fatti in materia di qualche osservazione e siccome non furono mai ristampate e gli esemplari ne sono scarsissimi non mancheremo di citarle ogni qual volta che avremo occasione di servircene qualche piccola cosa finalmente abbiamo potuto pescare da qualche d'uno dei pochi e scompagnati documenti autentici che sono rimasti di quell'epoca di confusione e di disperdimento e che si conservano nell'archivio citato più di una volta nello scritto antecedente dopo la breve storia del processo abbiamo poi creduto che non sarebbe forti bogo una più breve storia dell'opinione che regnò intorno ad esso fino al verri cioè per un secolo e mezzo circa dico l'opinione espressa nei libri che è per lo più e in gran parte la sola che i posteri possano conoscere e ha in ogni caso una sua importanza speciale nel nostro c'è parso che potesse essere una cosa curiosa il vedere un seguito di scrittori andare l'uno dietro all'altro come le pecorelle di Dante senza pensare a informarsi di un fatto del quale credevano di dover parlare non dico cosa divertente che dopo aver visto quel crudele combattimento e quell'orrenda vittoria dell'errore contro la verità e del furore potente contro l'innocenza disarmata non possono far altro che dispiacere dicevo quasi rabbia di chiunque siano quelle parole in conferma e in esaltazione dell'errore quell'affermar così sicuro sul fondamento di un credere così spensierato quelle maledizioni alle vittime quell'indegnazione alla rovescia ma un tal dispiacere porta con sé il suo vantaggio accrescendo l'avversione e la diffidenza per quell'antica usanza e non mai abbastanza screditata di ripetere senza esaminare e se ci si lascia passare questa espressione di mescere al pubblico il suo vino medesimo e alle volte e alle volte quello che gli ha già dato alla testa a questo fine avevano pensato alla prima di presentare al lettore la raccolta di tutti i giudizi su quel fatto che c'era riuscito di trovare in qualunque libro ma temendo poi di metter troppo cimento alla sua pazienza li siano ristretti a pochi scrittori nessuno ha fatto sicuro la più parte rinomati cioè quelli dei quali sono più istruttivi anche gli errori quando non possono più essere contagiosi di metter di metter di metter